Salve a tutti, finalmente! Sì, finalmente! Benvenuti, anche se con qualche giorno di ritardo, alla prima parte del gameplay di Pokémon X e Y. Dunque, prima vediamo tutto, poi spieghiamo un paio di cose, ok? Sì, grandi! Il gameplay è sponsorizzato ed è in collaborazione con Poketown.net, quindi mi raccomando, eh! Ti do il benvenuto nel mondo dei Pokémon. Mi presento, mi chiamo Platan e sono il professore di Pokémon della regione di Kalos. E tira la Pokémon che viene fuori. Skiddo! Sì, perché in questo mondo ci sono tantissimi Pokémon. I Pokémon sono creature misteriose che puoi incontrare nei luoghi più remoti. Alcuni scorrazzano sulla terra ferma, altri volano nel cielo e altri ancora non ho letto. Noi esseri umani viviamo assieme ai Pokémon, aiutandoci a vicenda. Dimmi qualcosa di te, sei un ragazzo o una ragazza, ovviamente? In questo sono un ragazzo. Che aspetto hai? Io direi che ho quello più standard. Perfetto, dimmi come ti chiami? Va, mettiamo un facilissimo Teo. Mettiamo anche il minuscolo. Te... no, no, la G, porca vacca. Ti... 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 Senza Pennino è un po' più complicato e non l'ho tirato fuori, sono un idiota, lo so. Teo... Ok. Me l'ha accettato, grandissimo. Teo, giusto? Sì. Teo, è proprio un bel nome, grazie. Teo, stai per partire nell'avventura... Nella regione di Kalos. Ti auguro di incontrare tanti Pokémon e di fare nuove e preziosi amicizie. Forse andiamo al mondo dei Pokémon, ti aspetta. Grazie. Dunque... Iniziamo con un Fletching che vola. Che sale delle scale. Ed eccoci nel letto che dormiamo. Una dolce sveglia, a quanto pare. Ed eccoci qua, più fighi che mai. Dunque, ragazzi, questo gameplay è iniziato in ritardo perché? Perché praticamente ho avuto problemi nella consegna del gioco, infatti il corriere non è passato il giorno dell'uscita e sono dovuto andarlo a ritirare stamattina stessa, sì, perché ho registro e carico proprio la mattina in cui sono andato a prenderlo. Ma non importa. Oh, non si legge, peccato. Buongiorno Teo, hai dormito come un sasso, eh? Il trasloco è stato stancante, ma sei ancora in pigiama. Vai a darti un'occhiata allo specchio in camera tua e cambiati, su. Ok. Teo si guarda allo specchio e magicamente mi vesto così dal nulla. E oltre ad aver avuto problemi di consegna, ho avuto anche qualche problema familiare in questo periodo, quindi è stata, diciamo, una fortuna che abbia cominciato dopo. Quindi, vabbè, ci sono, adesso continuiamo e una cosa sola, devo dire, che, oddio, non mi sto ricordando più cosa stavo dicendo. Ah, sì, io ho sia X che Y, quindi se ogni tanto mi vedete che so dove andare, perché ho già giocato su X e sono anche a buon punto del gioco, è ora di mettersi in moto, non credi? Innanzitutto, perché non vai a salutare i nostri vicini? Va bene, se proprio devo, li vado a salutare. Ok, eh, andiamo avanti. Apriamo la porta, la porta magica. Ciao, chi siete? Cosa volete da me? Perché mi fate questo? Benvenuto alla nostra città. Ah, eh, lo schermo si vede proprio così, nel senso è tagliato un pochettino, ma forse perché era meglio avere un 3DS XL, ma non importa. Io sono Serena, la tua vicina di casa, e io sono Shana, piacere di conoscerti. Siamo venuti a dirti una cosa importante. Qui nella regione di Kalos vive un illustre studioso di Pokémon chiamato Platan e ha detto di avere una richiesta per noi tre e altri due ragazzi. A dire il vero, mi chiedo come abbia fatto a sapere di te che ti sei appena trasferito qui a Borgo Bozzetto, nome proprio. Ti aspettiamo nella cittadina qui accanto, e sai perché? Perché stiamo per ricevere dei Pokémon. Forza, sbrighiamoci. Dunque, allora partiamo per la nostra avventura, andando da Borgo Bozzetto a qualche altra città che adesso scopriremo, infatti dobbiamo passare da di qua. Percorso 1, piccolo Bozzetto. Nel prossimo gameplay cercherò di mettere la videocamera più precisa che posso, perché non capisco, perché sembra che sia tutto bene, che sia tutto messo bene, ma in realtà no. Teo, siamo qui, vieni! Ma state tranquilli, questa è solamente la prima parte che non vedevo l'ora di farla e anziché scevo, pensavo ad andarsi automaticamente, invece dovevo andare io, sono proprio un genio. Stavamo proprio parlando di te. Dai, siediti. Benvenuto Teo, ora ci siamo tutti. Facciamo un giro di presentazioni. Io sono Serena, e qui con me c'è Teo. C'è il mio cane che mi sente parlare e si è spaventato un attimo. Teo, ti presento Tierno, che è quello grasso, brutto, schifoso, scemo. È un portento nel ballo, e lui l'ho trovato. Prende sempre il massimo dei voti, ma è piuttosto modesto. Eh sì, proprio così. Che ne dite se diciamo dei soprannomi per rompere il ghiaccio, se ci diamo, eh? Qualcosa come Mr. T per te? Cosa? No, 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 è meglio Super T. E tu, trovato, cosa ne dici? Eh, ma ci siamo appena conosciuti. Sharna, questi due piedi mi mettono in difficoltà. Comunque, se proprio devo, che ne dite di Magico T? Perché non lasciamo decidere l'interessato? Mr. T, cioè, dai. Vuoi che ti chiamiamo Mr. T? Sì, vabbè, dai, così mi fate arrossire. Mr. T, mi piace, ti sto proprio bene. Da un po' ti chiamerò così anch'io. È più simpatico. Dai, non resisto più. Quali sono i Pokémon che diventeranno i nostri compagni? Oh, giusto, quando io trovi abbiamo conosciuto i nostri Pokémon. È stato così emozionante. Sono sicuro che per voi sarà lo stesso. Ed ecco che ci verrà consegnata la sacca con i tre Pokémon. Con Cespi, Cespi, Fennekin e Froakie. E noi chi scegliamo? Scegli un Pokémon. Ma noi sappiamo già chi prendevo io, che è Fennekin. Che avevo già fatto il Team Reveal. Quindi prenderò lui, Fennekin. Vuoi dargli un soprannome? No, non penso che ci possa servire. Ok, allora niente di soprannome. Bene, allora il mio compagno sarà Cespi. Insieme formeremo un due troppo adorabile. C'è di conoscerti, Froakie. Io sono Serena. Grazie a te sono finalmente un'allenatrice. Anche io avrei una cosa da darti. È uno strumento molto utile per capire a fondo i Pokémon. E ricevo il Pokédex. Cosa più particolarmente strana è che non ce lo consegna il professore, bensì ce lo consegnano questi cosi. Il Pokédex che ti ho appena dato è un piccolo gioiello tecnologico che registra automaticamente tutti i Pokémon che incontri nel tuo viaggio. Il professore vuole che ci mettiamo in viaggio assieme ai nostri Pokémon per completarlo. Vabbè, adesso stai calmo. Trovi, se continui a parlare con quel tono serio ti spunterà la barba. Comunque, allora io sono serio. Ok, è una lettera da parte del professore. Perfetto. E ottengo la lettera. Bene, il nostro compito è finito. Adesso io trovi. Partiremo in cerca di Pokémon. Dai, andiamo. E dunque, quello che dovremmo fare noi è consegnare la lettera a nostra madre. Comunque, quello che vi devo dire è che nel primo episodio io farò pochissimo. Nel senso, durerà 10-11 minuti. E dopo di che, nelle prossime parti cercherò di caricare anche due video al giorno, se riesco. Uno o due video al giorno li carico di sicuro. Tranne la domenica che dovrei riuscire a caricarne solo uno, ma non importa. Sono stato indietro col gioco ed è giusto che io vada avanti. Comunque, parte la sfida contro Sean. E mi manda in campo Fennekin. Eh no, scusate, io ho mandato Fennekin e lei ho mandato Cespo. Scusate, è un attimo di confusione. Oh, ce l'ho anche Femmina. Comunque, per fortuna per una volta ci sfida una nostra, diciamo, tra virgolette rivale che utilizza il tipo non molto efficace contro di noi e quindi siamo più fortunati nella sfida. Quindi con Bracere la mettiamo KO facilmente. Perfetto. E questo era giusto anche una piccola parte iniziale per vedere un pochettino se il gameplay veniva bene. Ho capito che la videocamera devo sistemarla ancora meglio. Fennekin è salito al livello 6 e bla 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 bla. Ho sconfitto Shana. Povera. Cioè, Spine, avrei voluto vederti lottare più a lungo. Te ho vinto 500. Oh che soldi. Non so ancora come chiamarli, scusate. Però sei forte, Mr. T. Lascia che rimetta in sesto il tuo Pokémon. Allora ciao, saluta tua mamma da parte mia. Ehi, ehi, queste richieste... Queste cose dette così proprio non mi fanno bene. Che mi dispiace, pensavo che la videocamera registrasse meglio lo schermo, invece ho fatto la solita minchiata di metterla così e purtroppo non è andata come speravo. Allora, come è andata con i tuoi nuovi amici? Tio, ma qual è una Pokéball? Hai ricevuto un Pokémon. Che meraviglia. Complimenti. Allora, ad oggi sono allenatore a tutti gli effetti. Cos'è quel punto interrogativo? Cosa? È una lettera per me? Da parte il professor Platano. Non sarà mica una lettera d'amore? Ha ha ha. Ma no, vuole solo chiavarti di potenza. Che bella calligrafia. Vediamo un po'... Cosa? Una richiesta? Ah, ma certo. Incredibile, Teo. Abbiamo appena traslocato e devi già ripartire. Forza, prepariamo un po' di cose per il tuo viaggio con Fennekin. Dove vai? Dove vai, scema? Scema? Teo, è tutto pronto. Ho aggiunto anche qualche vestito. Certo che è successo tutto così in fretta. Come è volata la finale di una gara di Formula Raior? Come è la volata? Oh mio Dio. In pochissimo tempo hai trovato degli amici, hai ricevuto un Pokémon e sei addirittura in partenza per un viaggio alla scoperta di Kalos. Ah, non dimenticarti questa. E ottengo la mappa città, uno strumento particolarmente utile che ci permetterà di capire dove dover andare, quale posto visitare, dove siamo e dove saremo. Quando vuoi consultarla ando di fare altro che selezionarla dalla borsa. Non ho idea di perché il professor Platan voglia farti fare questo viaggio, ma un'avventura in compagnia dei Pokémon è sempre una cosa meravigliosa. Grazie mille. E noi potremmo cominciare la nostra parte andando nella prossima città a trovare Pokémon. Ma tutto questo nel prossimo episodio perché il primo episodio del gameplay in italiano Pokémon X e Y è finito. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un bel mi piace, un commento, un'iscrizione, seguiteli in link della descrizione che sono molto importanti. Un saluto da Teo e arrivederci al prossimo episodio di Ypsilon. Ciao ciao! Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti.